483 positivi in Veneto nelle ultime 24 ore. L'effetto dei vaccini si sta evidenziando. È in corso una nuova ondata con tanti casi asintomatici. Avverte il presidente Zaia l'ondata dal punto di vista ospedaliero non è pesante ma il virus circola. Quasi tutti i casi sono delta ma in arrivo c'è la beta, una variante ancora sconosciuta che potrebbe rappresentare un pericolo nuovo. E' un nuovo appello a vaccinarsi arriva direttamente dalla voce di Luca Zaia. Noi abbiamo 200.000 prenotazioni. Vorrei ricordare che la vaccinazione resta volontaria. Però è pur vero che chiunque volesse vaccinarsi, l'invito è approfittarne adesso perché ci sono i vaccini, ci sono i posti in agenda. E si può pianificare la vaccinazione senza poi ritrovarsi perché sarà quello che accadrà. Ma con l'arrivo dell'autunno, delle giornate meno calde, qualche piovetta, qualche brosetta, finisce che poi tutti vogliamo fare il vaccino e di qua arriva l'influenza. Perché poi è questo il ragionamento umano che tutti noi facciamo. Approfittatene adesso perché vorrei ricordare a tutti che ormai è chiaro che la risposta anticorpale ha una durata almeno di 12 mesi. Ormai lo si vede in tutta la letteratura scientifica. Pensate che anche sulla famosa dose da dare ai guariti si dice dai 6 ai 12 mesi dopo l'infezione. Quindi si dà già per scontato che gli anticorpi del vaccino che ti fai oggi ti copre fino a giugno, luglio del prossimo anno. Quindi non ha senso arrivare tutti al collo di bottiglia all'ingorgo in autunno. Questa è una preoccupazione che abbiamo. Ripeto, 200 mila posti liberi in questo momento. Quindi non c'è penuria di posti in agenda.